Bentornati sul canale di un'aperti di questo blog, io sono il Gonze e oggi sono qua a parlare di Perfect Sense Il film del 2011 di David McKenzie presentato al Sundance Film Festival del 2011 con protagonisti Eva Green e Iwan McGregor Non è un film horror, è un film su una pandemia e quindi visto che siamo in tema e siamo rinchiusi da più di un mese Quasi da due mesi in casa, in quarantena, tutti quanti Ho deciso di vederlo, insomma è normale che la curiosità ci sia Il film è vecchio ma arriva sulla piattaforma Prime Video, Aurora mi sembra, e quindi ho deciso di guardarlo La storia è praticamente quella di una pandemia stranissima che non si capisce bene da dove arriva, come si trasmette Sta di fatto che alla fine viene scoperto questo sintomo che è appunto la perdita dell'olfatto A questo punto i due protagonisti insomma vivranno questo grande cambiamento perché la perdita dell'olfatto e comunque questa pandemia colpirà tutto il mondo Quindi tutti perderanno l'olfatto, è veramente un film molto molto strambo La pandemiologa chiaramente si occuperà di cercare di capire qualcosa E invece Iwan McGregor che è lo chef di un ristorante diciamo pluristellato, insomma un ristorante di alto livello Dovrà insieme a tutto il resto del mondo inizierà a imparare a vivere senza l'olfatto Poi i due si conosceranno e inizieranno a innamorarsi piano piano Nonostante possa sembrare una storia d'amore il film non è questo o solo questo È anche una storia d'amore ma secondo me c'è ben altro Vi consiglio di vederlo anche se non è un film horror però ha delle atmosfere abbastanza inquietanti È un film distopico, è in un'ambientazione distopica quindi comunque un genere che potrebbe piacervi Da qui in avanti spoiler perché se no non riesco a dirvi niente senza rovinarvi Non dico i colpi di scena perché non è che ci sono dei colpi di scena Però meglio se non l'avete visto che tornate più avanti a vedere la seconda parte del video Da qui spoiler Una volta perso il primo senso, l'olfatto, che viene perso subito dopo una crisi di tristezza Quindi una crisi emotiva in cui le persone cadono per terra, piangono, insomma tutto ad un tratto Il mondo inizia ad adattarsi a questo nuovo modo di vivere E questa è una cosa molto interessante perché intanto c'è già un tema Cioè quello della capacità dell'uomo di adattarsi agli ambienti Perché dico gli ambienti? Perché la perdita di un senso significa anche la mutazione di un ambiente Un ambiente che non ha più odori non è più l'ambiente di prima Immaginate solo entrare in un bagno puzzolente Non è più un problema entrare in un bagno puzzolente Oppure lavarsi Non è così semplice capire se si è puliti o sporchi Se si è sudato e se in quel momento si puzza o no Ma non è neanche più importante se si puzza Quindi è veramente interessante come Anche se in maniera non accurata Perché fin si deve svolgere Ci succederanno tante altre cose È interessante vedere come appunto vengono toccati questi temi Il ristorante infatti crede di dover chiudere Poi inizia a scogitare un sistema Per cui aumentando le spezie e il piccante Farà tornare comunque la voglia alle persone di uscire Andare al ristorante e provare un'esperienza Che è più legata al gusto In questo frangente lo chef e la pandemiologa si conoscono Iniziano a frequentarsi Sentendo le distanze Perché sono entrambe due persone Con grosse difficoltà a entrare in empatia Con un'altra persona Innamorarsi e fidarsi E il fatto che loro siano così È legato al significato simbolico di tutto il film Dopo un po' arriva la seconda ondata Tra gli effetti collaterali di questa epidemia E tutto il mondo perde il gusto E anche lì panico Ma il mondo regge Il mondo va avanti Il mondo senza gusto Cambia il suo modo di vivere E a quel punto potremmo mangiare tutto quello che ci pare Tanto avrà lo stesso sapore Ed è interessante vedere appunto Che la mutazione, il cambiamento La capacità di adattabilità Ha il nuovo ambiente Mi piace definirlo così questo cambiamento Perché ora siamo in un mondo Dove le cose non hanno sapore Che cazzo è un ratto Non hanno sapore e non hanno odore C'è una scena molto bella Quando insomma le persone I vari protagonisti del film Insomma tutto il resto del mondo Viene colpito dal secondo sintomo Prima di perdere il gusto Tutti quanti hanno Un attacco di fame tremenda E iniziano a mangiare qualsiasi cosa Tipo pesci crudi Anche fiori finti Qualunque roba Proprio un attacco di fame folle In seguito Dopo questo ennesimo dramma Arriverà la perdita dell'udito E sarà preceduta Da un attacco di rabbia allucinante Quindi a quel punto ci sarà proprio Una sorta di rivolta per le strade La gente si ammazzera tra loro Fuoco e fiamme Insomma i nostri due protagonisti litigheranno Fino a separarsi Quindi nel momento in cui Sembrava che stessero per legare Per sempre Insomma hanno questa lite Ovviamente legata All'effetto collaterale della malattia E alla fine L'ultimo pezzo della storia È ovviamente la perdita della vista Che però avviene Dopo un attacco di estremo amore Tutte le persone si sentono pervase Da un grande amore Un grande senso di fratellanza Di solidarietà Di amore per le persone Che conoscono e non conoscono E poi arriva la cecità Diciamo che la storia d'amore Tra Ewan McGregor e Eva Green Pesa meno in tutta questa storia È funzionale Il significato simbolico dell'opera L'opera racconta I complessi rapporti che ci sono Tra le persone E l'ambiente in cui si trovano La nostra connessione con l'ambiente È chiaramente legata Ai sensi che noi abbiamo C'è ovviamente anche il tema Dell'adattabilità dell'essere umano La caparbietà Nel continuare a lottare E continuare a vivere L'istinto di sopravvivenza Di conservazione Si va avanti comunque Insomma poi alla fine Ci sarà Un momento di catarsi però Nonostante il fine sia una tragedia E finirà come una tragedia C'è un momento di catarsi Nonostante ogni scompartimento Si spegnerà del nostro cervello Quindi prima l'olfatto Poi il gusto Poi l'udito Poi la vista Rimarremo con un solo senso Il senso perfetto Il tatto Perché il tatto È il senso perfetto? Poi il film si chiude Dopo vedremo come Il film si chiude Con insomma i due amanti I due da coppia Che dopo aver litigato Però appunto Ha una crisi di estremo amore Si cercano Si alla fine Roccambolescamente Si ritrovano E si abbracciano Proprio nel momento in cui Stanno perdendo entrambi la vista Quindi riescono Appena in tempo E questa è una cosa Molto romantica Molto bella Appena in tempo Riescono ad abbracciarsi E a quel punto Perdono la vista In quel momento Sono stretti Tra di loro Le loro facce Sono attaccate E al punto Che la voce fuori campo Descrive Quello che succede Tutto buio Perché noi siamo Come loro Anche noi abbiamo perso La vista In quel momento E loro sentono Le lacrime Dell'altra persona Toccargli il viso Scendergli lungo il viso Perché il tatto È il senso perfetto? Perché il tatto È il senso Più legato In assoluto All'amore E ai sentimenti umani Quando amate qualcuno La cosa che volete fare In assoluto È toccarlo Cioè abbracciarlo Baciarlo Sì beh C'è anche chi vuole fare Anche altre cose Però Ora Praticamente I due Innamorati Hanno perso tutto Ma veramente tutto Tutto il mondo Sta perdendo tutto Quello che aveva Ma i due innamorati Stranamente Sono più legati Più vicini Adesso Che hanno perso tutto Ma gli è rimasto Solo il tatto Piuttosto che prima Che avevano tutti i sensi Ed erano distanti Tra di loro E anche rispetto Alle altre persone È assolutamente Un film simbolico Secondo me È un ottimo film Non è horror Lo ripeto Ma ci tengo Che sia su questo canale Per la sua natura Distopica E perché Sarà Lo stress Comunque Che inizia a farsi sentire Perché dopo Quasi due mesi Di reclusione Sono Provato Abbastanza Anch'io Stanotte Ho sognato Di essere esattamente Nella storia di questo film Di perfect sense Con la mia famiglia E non vi dico Il senso di angoscia Che ho provato Nel sogno Succedeva la stessa cosa Anche a me Andavano via Tutti i sensi E io Insomma era un incubo E quindi quando mi sono svegliato La mattina ho detto Vabbè Già la volevo fare Questa recensione Però la metto su Non aprite questo blog Perché anche se non fa paura È comunque un incubo Questo film Racconta un incubo E quindi niente Per fortuna mi sono svegliato Detto ciò Lascio alla fine Qualche critica Qua e là Perché non voglio neanche essere frainteso Il film non è perfetto Però si concede Delle scelte stravaganti Qua e là Che possono anche essere Ritenute un po' Grottesche Sicuramente Non tutte le scene Sono riuscite Alla perfezione Ma secondo me Sono tutte funzionali Al racconto della storia Non amo molto Attori come Iwa McGregory Eva Green Le trovo Non troppo Non mi trasmettono molto Soprattutto Eva Green In più sono Molte più le scene In cui è nuda Che in quelle in cui è vestita Questo dovrebbe Incentivarvi a vedere il film Il film Insomma Si lascia guardare Piacevolmente Io l'ho trovato Un bel film Nel complesso Basta Questo è tutto Non so se guarderò Altri film Sì Penso che adesso Mi sparerò Un po' di film Sulle epidemie Così Vediamo Niente Questo è tutto Per la recensione Di Perfect Sense Se il video vi è piaciuto Iscriviti al canale Lasciate un like Mettete un commento Qua sotto Fate un po' il cazzo Che vi pare Insomma Sono roti i coglioni Ciao